Ciao a tutti, buonasera, sono Matteo Centurioni, sono il nuovo tecnico della Primavera, sono orgoglioso di essere qui a Reggio e di rappresentare questi colori, cercherò nel più breve tempo possibile di capire cosa significa essere reggiani e cercheremo di fare il lavoro il migliore possibile. Per quanto riguarda i ragazzi, rimbocchiamoci le maniche, ci sarà da soffrire, da sudare, da fare tanta fatica, però le cose più belle sono le più difficili, quindi aspettiamoci insomma anche di raccogliere delle grandi soddisfazioni durante questa stagione.